Un numero preciso non si ha, si possono fare delle stime. In pratica dire quante persone in Svizzera abbiano già contratto il covid è molto difficile. Stando all'ultimo report dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, sarebbero circa 2 milioni e 800 mila gli elvetici che si sono infettati dall'inizio della pandemia. Uno su tre. Molti non se ne sono accorti, niente sintomi o comunque molto lievi. Le statistiche mostrano che solo circa 650 mila sono stati testati durante la fase acuta. Secondo il Governo federale, i test attuali come i tamponi molecolari non sarebbero sufficientemente affidabili. Bisogna dunque puntare sui test anticorpali per gestire meglio la campagna vaccinale e abolire più velocemente le restrizioni in atto. Per gli esperti questi test sono sì più complessi rispetto ai classici tamponi, ma darebbero un risultato più attendibile e potrebbero essere usate addirittura come base per i passaporti di immunità. Intanto, mentre si guarda con una certa preoccupazione alla nuova variante indiana, da una settimana ristoranti e bar hanno riaperto ai clienti le loro terrazze, servizio al tavolo, ma solo all'aperto. Via libera anche a cinema, teatri, manifestazioni culturali, attività sportive, ma sempre con un severo protocollo sanitario.